Uno schiaffo a Emmanuel Macron e non in senso metaforico. Come mostra questo video che sta facendo il giro della rete, il presidente francese è stato schiaffeggiato da un uomo che si è definito anarchico. L'episodio è avvenuto durante il viaggio del capo dell'Eliseo nel dipartimento della Drom, mentre Macron stava salutando alcune persone all'uscita da una scuola alberghiera. L'autenticità del video è stata confermata dal suo entourage. Lancia un appello a un risveglio repubblicano, ne va delle basi della nostra democrazia, ha detto il premier francese Jean Castex. La democrazia è dibattito, è dialogo a espressioni di disaccordi legittimi, ha detto il primo ministro francese, ma non può in alcun modo essere violenza, aggressione verbale e ancora meno aggressione fisica. Ferma la condanna del governo francese, solidarietà è stata espressa anche dai suoi avversari alle presidenziali del 2022, a partire da Jean-Luc Mélenchon. Intanto le autorità francesi hanno arrestato due uomini, come riportano funzionari locali, fermati sarebbero due trentenni esponenti del movimento dei gile gialli. Grazie. 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 Grazie.